Questo programma è offerto da DeconoCampus Lunedì 3 giugno, buongiorno da Teleprima Benvenuti anche oggi alla nostra quotidiana rassegna stampa che come ogni mattina è offerta da TeconoCampus Anche oggi e soprattutto oggi vediamo che ancora vive sono le diatribe purtroppo all'interno del governo soprattutto in relazione alla festività di ieri inerente il 2 giugno, festa della Repubblica in cui ci sono stati scontri almeno verbali tra il vice premier Salvini e il presidente della Camera Roberto Fico e dall'altro canto vediamo che il premier Conte a questo punto si mette in mezzo, si mette di traverso e dice o vi mettete d'accordo oppure finisce tutto qui insomma un vero e proprio dibattito sempre aperto sempre acceso che rende comunque ancora una volta l'aria irrespirabile ma continuiamo a vedere quelli che sono i fatti in primo piano però questa volta usiamo proprio i quotidiani nazionali e partiamo con il Corriere della Sera e infatti vediamo che in apertura è proprio così Conte si cambia o ci fermiamo? L'ite Salvini Fico, scontro sul 2 giugno e la dedica ai migranti fatta ovviamente dal presidente della Camera Fico mentre giustamente secondo la sua opinione dice Salvini no, questa festa è dedicata agli italiani insomma due diverse prospettive da un lato c'è chi comunque dice questa festa è dedicata all'inclusione e quindi il presidente Fico e chi dall'altro lato dice no, assolutamente no quello che noi stiamo facendo è esclusivamente per gli italiani e continueremo su questo cammino insomma veramente due posizioni diametralmente opposte che rendono proprio una situazione governativa sempre più ingestibile e ancora vediamo sospesi tra due patrie e la svolta di Weidman mentre nella parte sinistra nell'editoriale di Panebianco i moderati senza casa ancora vediamo gli altri fatti uno scontro, ancora una volta uno scontro a Venezia collisione con Battello forti le polemiche vediamo che si tratta proprio di una nave che va a sbattere contro un Battello si è sfiorata, fortunatamente non si è arrivati alla tragedia però si è sfiorata come dicevo e quindi adesso si riaprono tutte le polemiche inerenti appunto al transito dei grandi mezzi proprio a Venezia e la situazione si presenta sempre più complicata e ancora vediamo le altre notizie nella parte destra di questa pagina il Papa e i politici non seminare odio e paura di ritorno dalla Romania Papa Francesco si dedica proprio ai giornalisti e dedicandosi ai giornalisti parla di quelle che sono le sue opinioni soprattutto in ambito politico e dice che lui non riesce a capire la politica di questo governo dice io sono ignorante e riferendosi a Salvini quando gli viene domandato lei non vuole vedere Salvini lui risponde il Vice Premier non mi ha mai chiesto udienza quindi non sono io che non lo voglio vedere anzi sono ben disposto dall'altro canto Salvini risponde che lui non l'ha mai chiesto ha ragione il Papa però gli farebbe molto piacere avere un incontro con Papa Francesco e ancora vediamo le altre notizie sui quotidiani nazionali partiamo dalla verità altro che festa alla Repubblica è diventata la festa dei Rom la parata degli imbarazzi il Presidente della Camera Roberto Fico trasforma il 2 giugno nell'ino all'accoglienza per nomadi e profughi un insulto per chi ha perso la vita difendendo la nostra patria anche Papa Francesco pensa ai Rom e dice infatti sempre nel viaggio di ritorno dalla Romania dice vi chiedo perdono ancora vediamo nella parte centrale della pagina poliziotti nel mirino 7 al giorno aggrediti da stranieri irregolari la denuncia degli agenti magistrati anziché difenderci se la prendono con noi e ancora nella parte bassa lo schianto della nave ci insegna quanto costa dire sempre di no questo è quello che riguarda l'incidente a Venezia mentre nella parte bassa della pagina il dizionario di Silvana e parliamo di Silvana De Mari nell'era del falso cercate la verità e ovviamente trovare la verità in questo clima sempre più disarticolato in cui è molto più semplice non essere sinceri e onesti la verità non paga e anche quando viene annunciata come tale dall'altro canto siccome non si è pronti o non si vuole sentire quello che si inventa tutt'altro e ancora vediamo gli altri fatti ci spostiamo sul Fatto Quotidiano anche la festa della Repubblica un pretesto per litigare Fico la dedico oppure ai migranti Di Maio idea sua Salvini mi girano le scatole ma tacere mai si domanda appunto il fatto e ancora vediamo nella parte alta della pagina l'alzamento tutti ex capi di Stato Maggiore dell'aeronautica i tre generali nemici della Trenta e il muro di gomma sustica mentre per le fake news inchiesta media parte sul produttore degli OGM giornalisti e scienziati Fasulli così Monsanto controlla le notizie nella parte alta della pagina in apertura proprio di questa giornata il discorso del Premier vuole dare una scossa per stanare Salvini e Di Maio Conte da gli otto giorni a Lega e 5 Stelle e infatti oggi dopo le 17 a mercati chiusi il Presidente del Consiglio parlerà agli italiani e soprattutto ai due vice per capire se l'esecutivo può andare avanti o è meglio chiudere l'esperienza in tempo per votare a settembre e lasciare la finanziaria a un nuovo governo domani Conte partirà per il Bietram poi fra venerdì e sabato convocherà i due leader per proporre il suo metodo per superare le divisioni sui vari dossier e infine scioglierà la riserva non oltre però una settimana e intanto vediamo le altre notizie grande nave grande schianto e risso a politica lo stop promesso ma in realtà mai arrivato e intanto nella parte centrale della pagina il grande esodo dalla serie A molti tifosi spengono la tv infatti si paga di più per vedere meno e male il bilancio della stagione di calcio è un flop del duo The Zone Sky tifosi in fuga conti che non tornano e abbonamenti in calo e per il futuro torna il canale della Lega e nella parte bassa della pagina la leggenda casale dal campo di calcio a quello di Auschwitz vinse il campionato ma perse in guerra e infine il cugino di Messina Denaro quella voce sulle note divenuti il parente antimafia del boss che si trova nel videoclip ancora vediamo gli altri fatti in primo piano libero Matteo vuo fallo americano Salvini sulle tasse imita Trump la riduzione fiscale di Donald ha messo le ali all'economia USA il vice premier la studia chi dichiara 10.000 euro ne risparmierebbe 1.300 di IRPEF chi guadagna 50.000 ben 8.300 e intanto Fico si dedica ai Rom 2 giugno funerale della Repubblica e nella parte centrale della pagina eccoci qua la buongiorno così sto rivoluzionando la pubblica amministrazione dice serve un test psicologico per i magistrati mentre nella parte destra il femminismo non paga sorpresa le donne non votano PD ira delle compagne e intanto nella parte bassa si è scordato la legge Toninelli dorme le grandi navi sbandano a Venezia mentre la pende torna su rete 4 l'unica stella che ci piace vedere dice appunto questo quotidiano intanto nella parte bassa della pagina la mamma non riusciva a staccarsi deglia per 4 mesi pensate un po' il figlio disabile morto e intanto in senato premiati i migliori studenti caro nonno ti scrivo ecco quelli che sono i temi più belli insomma oggi è alta la polemica per quanto concerne lo scrivere molto spesso siamo oddio molto spesso più che altro siamo propensi a digitalizzare quindi a usare le nostre mani esclusivamente sulla tastiera di un computer e si è persa quasi l'abitudine di usare carta e penna ma sembra adesso che si voglia ritornare indietro perché anche la scienza dice che chi non scrive perde una parte importante della sua immaginazione della sua fantasia e di quella che è la capacità di creare e inventare ma continuiamo a vedere le altre notizie in primo piano il giornale Fico Traditore schiaffo agli italiani Grellino dedica la festa della Repubblica a immigrati e nomadi e il Papa in Romania dice chiedo perdono ai Rom mentre da Venezia tragedia assiorata ma le grandi navi valgono oro scontro con battello e quattro feriti insomma questa è l'ipotesi per cui le decisioni non vengono prese ciò che vale oro non si tocca e ancora i commenti sempre in relazione all'evento del 2 giugno e la politica Francesco non dice la parola comunismo mentre il premio del Colle che sdogana l'Islam viene dato appunto a una giornalista islamica e intanto nella parte bassa della pagina Castelli giallo sulla manina governo sempre più debole lettera rubata nel mirino il vice ministro Movimento 5 Stelle ed ancora nella parte bassa la strategia di Trump trattiamo con Teran in realtà è un invito bello e buono alla resa e infine nella parte bassa della pagina cari catastrofisti rischi non morirà di caldo l'allarme sul clima a rischio la produzione si continua ancora a lanciare l'allarme sul clima adesso vediamo che comunque ci stiamo proiettando verso il caldo più intenso e poiché ci siamo domandati dove fosse finito tutto questo caldo tanto proclamato nei mesi scorsi adesso ce ne renderemo probabilmente conto ma ancora vediamo gli altri fatti ci spostiamo sul tempo Fico uccide Movimento 5 Stelle in dispetto a Salvini Presidente della Camera spara la castroneria dedico il 2 giugno a Roma emigranti si infuriano parlamentari militanti grillini ma è solo pressing per l'uscita dal governo oppure l'incidente della nave da crociare a Venezia diventa un pretesto per litigare ed ancora via oggi con la conferenza di Conte una settimana da incubo per l'esecutivo ovviamente questo si vedrà se effettivamente corrisponde al vero oppure no e intanto Zinga spende una fortuna per farsi dire che è bravo la regione stanzia oltre 200 mila euro per commissionare sondaggi sulla percezione del proprio operato ed intanto a due passi dalla scuola allarme a Villa Lazzaroni invasi dalle siringhe e infine l'incidente alle capanelle investe tre ventenni e fugge scatta la caccia al pirata ancora una volta quello che non può essere considerato un incidente ma semplicemente qualcosa che va contro la vita umana ancora vediamo gli altri fatti in primo piano ci spostiamo sulla Repubblica la grande nave ultima ferita al cuore di Venezia la MSC opera non riesce a fermarsi investe un traghetto 5 in ospedale si riapre la polemica sull'attraversamento dei canali la Lega contro Toninelli vediamo proprio nell'immagine la crudezza di questo evento e ancora vediamo nella parte destra della pagina di contro il bivio di Conte pace con l'Unione Europea o addio non sarò io dice Conte a firmare la procedura di infrazione Fico difende i migranti e Rom lite con Salvini e Di Maio si dissocia da Fico intanto il Papa la politica non semini odio mentre si vede nell'editoriale di Ezio Mauro che il senso smarrito della Repubblica è una realtà sempre in costante presenza e ancora dal messaggero la manovra bis ostacolo al voto in caso di crisi Colle chiederà di blindare i conti mentre Conte serve un metodo non si va avanti e Salvini così il governo cade Fico con migranti e Rom scontro con Di Maio si è venduto al PD si domanda e intanto nell'editoriale lo vediamo nella parte sinistra riflessioni dopo visco l'inflazione i tassi reali e la ricchezza degli italiani mentre nell'intervista il Papa dice la politica abbandoni l'odio pregate per l'Unione Europea mentre gli equilibri sono sempre più fragili salva Roma Movimento 5 Stelle apre allo stralcio e allo slittamento e la flat tax per attrarre a sud pensionati stranieri ed emigranti sembra essere la via di fuga li quota al 7% per chi va a vivere nel mezzogiorno d'Italia e ora l'Italia sfida il Portogallo come paradiso fiscale ancora vediamo nella parte bassa della pagina lo studio shock eccoci qua tanto shock non ci sembra visto che è una realtà sempre più conclamata e boom tra i giovani delle sbronze e abbuffate accoliche sembra che questa sia la soluzione o meglio la panacea da ogni male e sembra che questa sia la volontà di quelli che sono considerati più giovani bere 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 fino a sbronzarsi del tutto e ancora vediamo le altre notizie in primo piano questa mattina vediamo dal mattino fuma arrosto se Napoli ti tiene caldo anche quando fa freddo a dirlo è Gervaso mentre nell'intervista a Sacchi si parla di sport e dice spero torni Sarri per salvare il nostro calcio dalla grande bruttezza mentre 25 anni dopo Truisi il genio sempre vivo e quella laurea che intanto non arriva ancora vediamo nella parte sinistra della pagina solo l'incubo manovra bis frena il voto anticipato la linea del colle prima i conti a posto Fico dedica il 2 giugno ai Rom Movimenti 5 Stelle divisi oggi parla Conte io unico garante e l'analisi è questa la maionese giallo verde che impalza e lo scenario l'inflazione e la ricchezza degli italiani raccontata da Sapelli mentre nella parte centrale della pagina si parla ancora una volta dell'economia e soprattutto del lavoro che traballa e infatti vediamo tutte le whirlpool del sud 80.000 lavoratori a rischio e quando si parla di 80.000 lavoratori bisogna tenere presente che molti di questi sono famiglie famiglie che lavorano in una stessa azienda e si trovano adesso col rischio di trovarsi proprio senza un lavoro sono oltre 60 le vertenze di grandi aziende senza sblocchi di rilancio a fine anno la cassa integrazione nel mezzogiorno costerà 5 miliardi ed ancora sgravi a chi torna pensioni la flat tax per gli ex emigranti quindi il ritorno nel meridione e intanto Napoli la cronaca il racket della camorra sui cinesi morti clan mazzarella 1000 euro a bara nel porto la salma parte ma l'identità resta in Italia una storia che già c'è stata raccontata a quanto pare adesso viene rivissuta in maniera più preponderante e ancora nella parte centrale della pagina andiamo a vedere lo sport la storia pesi massimi il nuovo campione Andy il pugile che riscatta tutti i ciccioni del mondo e infatti è un'affettatrice sotto forma di budino ecco Andy 32 vittorie 21 per KO la rivincita dei gordos e insomma sembra proprio essere questa la dicitura che viene utilizzata ma sembra proprio essere utilizzata semplicemente perché chi è sovrappeso nel nostro mondo sembra essere quasi incapace di qualsiasi attività fisica ma anche morale perché troppo spesso viene ad essere considerato qualcosa di amorfo e soprattutto incapace e questa è una situazione sempre più presente e sempre più devastante ancora vediamo nella parte bassa della pagina l'ambiente violato specie marine a rischio l'orrore dell'isola di plastica alla deriva per il mar Tirreno ed ancora vediamo le altre notizie in primo piano vediamo la stampa che cosa ci racconta in questa giornata la civiltà che affonda in laguna in primo piano la paura a Venezia nave gigante contro il vaporetto e nella parte centrale il 2 giugno di Fico spacca i 5 stelle e mette in pericolo il governo come se in realtà non fosse già in difficoltà per altre situazioni insomma una vicenda che continua a essere sempre in primo piano qualsiasi ragione buona per dividere e per litigare e andiamo avanti verso una deriva insormontabile e ancora il resto del Carlino anche la parata spacca il governo Fico 2 giugno festa di migranti e Rom di Maio Gelido Salvini Furioso e lo scontro in laguna Venezia polemica sulle navi da crociera la lega attacca Toninelli battaglia navale e infatti questo diventa anche ancora di più la ragione per discutere e intanto con te stufo basta liti o me ne vado dice oggi l'ultimatum e intanto il Papa i politici dovete smettere di seminare odio e infine nella parte bassa della pagina l'inchiesta preti sposati il vescovo apre superare i tabù e vabbè questo lo potremo vedere all'interno di queste pagine ma adesso ci spostiamo ad altri argomenti andiamo a vedere la parte sportiva con il Corriere dello Sport e vediamo nella parte alta Passione Sarri il nostro inviato del Valdarno dove i tifosi si dividono i giuventini in estasi i napoletani furiosi oggi si saprà la verità e intanto nella parte centrale il gioco è fatto sono i giorni della svolta per almeno quattro tecnici ed eccoli qua infatti la Roma punta all'allenatore dello Shakhtar Simone rinnova con la Lazio fino al 2021 e Milano ha scelto l'ex stamp ma prima la nomina di Maldini sinisa al vertice col Bologna e ancora vediamo le altre notizie in primo piano ci spostiamo su tutto sport Toro prendi questi quattro conferme su Gaillardini ma Cairo respinge l'Inter per Izzo e ancora vediamo che Rolando Bianchi dice De Paul Verdi Lazeri e Grassi sono i rinforzi perfetti per il salto di qualità e nella parte centrale Koulibaly per Sarri attenzione il tecnico che mercoledì avrà l'incontro decisivo con la Juve può essere determinante in una trattativa che si annuncia molto complicata per la difesa del futuro colpo in Serbia Paratici intanto ha in mano il gigante Plavovic e ancora vediamo nella parte destra Mondiale Under 20 Pinamonti vai Italia ai quarti col cucchiaio e 3 a 0 al Cittadella lo spettacolo da A Bentornato Verona e insomma queste sono le notizie che ci vengono dalla nostra Italia dai quotidiani nazionali adesso però facciamo una piccola pausa non andate via perché ritorniamo subito dopo e continuiamo la nostra rassegna stampa alla prossima Grazie a tutti. Grazie a tutti. In futuro è nato Tecnocampus, un centro direzionale moderno, frutto di un ambizioso progetto di riqualificazione industriale che ha messo la qualità del lavoro al primo posto. Tecnocampus, il nuovo centro direzionale di Caserta è collegato direttamente all'A30 Caserta-Salerno e dista pochi minuti dal centro di Caserta. Tecnocampus SRL, Viale Lincoln, zona industriale ex San Goben Caserta. Tecnocampus, la soluzione al centro. Ed eccoci di nuovo in studio, vi ricordo che oggi è lunedì 3 giugno, siamo sempre in primo piano e soprattutto in diretta con la rassegna stampa e vediamo adesso i fatti che riguardano noi più da vicino, quindi la regione Campania e passiamo subito a sfogliare le pagine del quotidiano La Repubblica che riguardano appunto Napoli. Movida violenta, noi picchiati senza motivo, pensate un po' da 30 ragazzini. Via dei carrozzieri a Monte Oliveto, la notte tra sabato e domenica, stavolta le vittime sono state picchiate a calci e pugni, ancora una volta senza una scintilla o un pretesto, un pestaggio gratuito, un assalto messo a segno da 30 ragazzi, alcuni con l'età dei bambini e la cecità dei criminali contro una comitiva di 20 anni, quasi tutti universitari. Ecco perché in questo quotidiano è andata a sentire il racconto di una delle vittime e insomma ha raccontato che tutto quello che è successo è assurdo, incredibile. Noi stavamo tranquillamente passeggiando in via dei carrozzieri, eravamo un gruppo di amici, due uomini, cinque ragazzi, più altri due a nostri amici che proseguivano a poca distanza da noi, all'improvviso è scoppiata la violenza senza motivo e questo accade sempre più spesso a Napoli come in altre città, ma attualmente Napoli è in primo piano ed è proprio alla luce del sole. Vediamo ancora Alvomero, altra rissa con pistola in piazza Immacolata, sabato di ordinaria foglia Alvomero, mentre in via Scarlatti un gruppo di ragazzini ha scatenato il panico sparando alcuni colpi a salve e infatti in piazza dell'Immacolata si è sfiorata la tragedia, le risse sono all'ordine del giorno durante il fine settimana, sabato sera l'ennesimo scontro tra giovanissimi per futili motivi, ha portato al fuggi-fuggi generale quando alcuni dei contendenti hanno tirato fuori delle pistole e hanno minacciato di sparare ai rivali. Tra le urla generali qualcuno ha avuto la lucidità di chiamare subito i carabinieri che però quando sono giunti in piazza con tre autopattuglie hanno potuto solo raccogliere qualche testimonianza al momento i ragazzi coinvolti nella rissa ovviamente erano già scappati. Insomma un sabato che si presenta sempre e in maniera ricorrente all'insegna della violenza, della paura. Napoli sembra quasi invivibile sotto il punto di vista del fine settimana della Movida quando si beve ma non solo perché c'è chi esce semplicemente per fare fuoco. E ancora vediamo le altre notizie, eccoci qua infatti vediamo quelle che sono le altre notizie però ci spostiamo questa volta cambiando proprio argomento. Andiamo a vedere la parte politica, il PD a Napoli è un partito da rifondare, ostaggio di capi bastone a dirlo è Michele Meta, è commissario mandato in città da Nicola Zingaretti e col mio piano vediamo il PD a Napoli è un partito da rifondare, dice Michele Meta già deputato e presidente di commissione a Montecitorio, dirigente democratico a Lazio il commissario mandato un mese fa da Nicola Zingaretti annuncia citando Antonio Gramsci che nella città più importante del Mezzogiorno il PD più che accordarsi con dei magistri sinipotetic e future alleanze deve riconquistare l'egemonia intendo proprio in senso gramsciano ovvero la supremazia culturale e intellettuale il primato morale di una classe, il ceto medio sulle altre ma penso anche alla spinta che può venire dal mondo cattolico democratico la situazione qui è difficile ma il partito si può ricostruire ritrovando appunto l'unità ed ancora vediamo, ci spostiamo proprio, cambiamo proprio argomento e si parla di Troisi a 25 anni dalla morte a San Giorgio a Cremano digitalizzati i corti dei primi passi infatti domani 4 giugno la città natale dedicherà un'intera giornata all'attore scomparso a soli 41 anni nel 1994 25 anni sono tanti ma per chi ricorda la voce, il gesto, l'arte di Massimo Troisi sono un tempo che accorcia le distanze della memoria e cancella il gran vuoto che la morte ha lasciato tra chi l'ha applaudito amato saranno in tanti a ricordare Troisi tra qualche giorno e in più un martedì a San Giorgio a Cremano durante la giornata lui dedicata e saranno in tanti ad ascoltare le trasmissioni che andranno in onda collegata da Loredana Rotundo per ricordarlo con interviste e materiali di repertorio insomma una giornata tutta dedicata al grande Massimo che sembra proprio aver lasciato tante situazioni incompiute e soprattutto il desiderio in tanti di ricordarne la forza e la capacità di far ridere con leggerezza e un sorriso a portata di mano ancora vediamo le altre notizie in primo piano ci spostiamo su Il Mattino andiamo a vedere proprio quelli che sono i fatti attesi da questo quotidiano e vediamo che si parla ancora di università visto come dico ogni giorno che ormai ci siamo mancano pochi giorni infatti parte la torcia dei saperi da Torino a Napoli si chiama Fiaccola del Sapere i valori più alti dei giochi universitari quelli creati da Primo Nebbiolo nel 1959 che tornano in Italia in Campania dopo 60 anni la Fiaccola del Sapere che accenderà il prossimo 3 luglio il Tripodero Stadio San Paolo nella splendida cerimonia creata da Balic Worldwide Show partirà da Torino in una cerimonia che si ripete ormai stabilmente ogni due anni che sia per i giochi estivi oppure quelli invernali il percorso, i tedofori, le curiosità legate alla Fiaccola saranno presentati presso la Sala Italia della Mostra d'Oltremare di Napoli ovviamente intervenranno il commissario straordinario Gianluca Basile il direttore area istituzionale Aru Anna Paola Voto il presidente del curso Lorenzo Lentini il vicepresidente della regione Campania Fulvio Bonavitacola e tanti altri proprio per dare il via a questi giochi che sicuramente attireranno tante persone e soprattutto daranno alla città di Napoli ma all'intera Campania un privilegio ossia quello di essere protagonista e ancora vediamo gli altri fatti in primo piano Napoli, Fico, Gela, De Magistris i nostri rapporti solo istituzionali infatti l'appello al presidente della Camera Roberto Fico per una santa alleanza antilegale e regionali non desta particolari entusiasmi dall'entourage di Fico trapella questo concetto il rapporto con il sindaco Luigi De Magistris è cordiale ma istituzionale e l'intervista dell'ex PM sul fatto dove ha chiesto un'alleanza al Movimento 5 Stelle non smuove i vertici grillini certo in politica tutto è possibile il tema di una crisi di governo è attuale e gli scenari cambierebbero radicalmente ma è presso ovviamente per eventuali ribaltoni e ancora andiamo a vedere la prima pagina del quotidiano tutto casertano appunto Caserta News e vediamo quelli che sono i fatti in primo piano si parte dall'accollatore ferito durante una festa importante che si svolge ogni anno a Recale un accollatore ferito durante il ballo del Giglio è stato portato fuori a spalla e soccorso dall'ambulanza infatti un ferito alla festa del Giglio a Recale uno degli accollatori è finito con un piede sotto la pesante struttura della Guglia proprio durante il tradizionale ballo del Giglio in piazza municipio il ragazzo è stato portato a spalla fuori dalla folla e soccorso da un'ambulanza insomma una vicenda brutta e complicata anche perché la struttura è immensa e ha un peso notevole non so se avete mai visto però questa è la realtà ancora vediamo le altre notizie il bilancio, il ministero e la fuga del professore nervi tesi in comune e in attesa della letterina da Roma sui conti dopo il secondo dissesto e ancora una volta si parla infatti c'è una letterina che preoccupa il governo Salvini Di Maio ed un'altra che tiene in ansia l'amministrazione comunale Caserta a gira di gira sono sempre i numeri del bilancio a tenere in birico e in ansia le amministrazioni centrali ma anche locali e ancora vediamo gli altri fatti vediamo e ci spostiamo sulla cronaca la sorella condannata del boss Zagaria ai domiciliari però attenzione perché sarà fuori regione infatti Elvira Zagaria di lei stiamo parlando sta scontando sette anni di reclusione in provincia di Ferosinone ed è agli arresti domiciliari in un piccolo centro ed è la sorella del boss del clan dei Casalesi Michele Zagaria la donna che deve ascoltare una condanna a sette anni di reclusione per gli inquirenti antimafia si sarebbe occupata della gestione economica del clan dopo l'arresto del fratello e di gran parte dei membri della famiglia ancora vediamo le altre notizie in primo piano rimaniamo su questa testata online e vediamo che secondo il meteo esplode l'estate e a quanto pare nel fine settimana avremo il giorno più caldo proprio di questa settimana si passa da un inverno che non voleva avere più fine probabilmente proprio a un'estate torrida ma noi rimaniamo in attesa anche perché la situazione si presenta sempre più complicata ma sempre più inattendibile visto che ormai ci siamo abituati così tanto alla pioggia che sembra quasi essere diventata parte di noi ancora vediamo da Caiazzo cantone a nulla le nomine del sindaco stop per tre mesi agli incarichi il clamoroso provvedimento del presidente dell'ANAC dopo l'esposto e infatti l'autorità nazionale anticorruzione preseduta dal magistrato Raffaele Cantone con delibera numero 450 dell'8 maggio 2019 ha annullato la nomina dell'avvocato Patrizia Mero la ex assessore consigliera comunale nella passata consigliatura dell'architetto Marcello Mastroianni rispettivamente a presidente e vicepresidente del consiglio di amministrazione delle opere pie riunite a Caiazzo contistualmente l'ANAC ha sospeso pensate un po' per tre mesi il sindaco Stefano Giacquinto ha potere di conferire tutti gli incarichi di natura amministrativa di sua competenza il provvedimento dell'ANAC tra origine da un esposto presentato già nel mese di settembre 2018 dai consiglieri del gruppo di opposizione Caiazzo Bene Comune e i quali a seguito delle nomine effettuate dal sindaco Giacquinto avevano sollevato motivate eccezioni sull'inconferibilità ed incompatibilità dei consiglieri individuati quali membri del consiglio di amministrazione delle opere pie insomma tanti fatti anche questa mattina però per questa rassegna stampa di oggi terminiamo qui abbiamo lasciato un po' di semi li abbiamo lanciati un po' in giro e soprattutto siamo andati a spulciare quelle che sono le testate principali ma soprattutto abbiamo raccontato i fatti e la realtà insomma io vi ringrazio per essere stati con noi anche in questa giornata ringrazio come sempre Tecnocampus che ogni mattina ci offre la possibilità di fare informazione e farla al meglio proprio con chi ci sceglie e soprattutto vi auguro una splendida giornata dandovi appuntamento come sempre a domani stesso posto stessa ora buona giornata a tutti grazie a tutti questo programma è stato offerto da Tecnocampus grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti